Siamo al centro per l'impiego di Pescara, oggi è la giornata del reclutamento, tanti i giovani che si sono presentati questa mattina negli uffici di via Passolanciano. Vogliamo spiegare un po' il senso di questa iniziativa? Questa giornata è servita ad avvicinare le aziende al centro per l'impiego, a far sapere, cosa che non tutte le aziende sanno, che le aziende possono rivolgersi a noi per selezionare il personale di cui hanno bisogno. Ci sono diversi ragazzi, diversi giovani che sono venuti questa mattina? Sì, in gran parte erano persone che si erano già candidate inviando il loro curriculum al nostro sito, al nostro indirizzo di posta elettronica, perché appunto cogliamo l'occasione per dire che le nostre offerte di lavoro vengono pubblicate sul sito pescaralavoro.it, nella apposita sezione. Noi facciamo una prima opera di preselezione di questi curriculum e quindi li inoltriamo le aziende, le quali poi contattano ovviamente le persone che ritengono di dover contattare, che hanno i requisiti che loro cercano. Probabilmente questa iniziativa serve anche per far sapere che non è vero che non c'è lavoro in giro. Di lavoro ce n'è, ma non così tanto, non di così grandi qualità come a volte si dice. Sicuramente non quanto ne viene chiesto. Grazie. 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 Grazie.